segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sono i giornali loro sono i giornali voi mi volete morto sono i giornali o è la destra è stato raccontato la destra sono un bersaglio fisso allora facciamo così facciamo una domanda risposta chiusa se loro sono i giornali di destra o i giornali geneticamente la destra o la sinistra allora loro sono la destra che vedono in suma oro un soggetto che è un nemico perché ha un'identità chiara che è un'identità alternativa alla loro io sono un patriota patriota sono ma patriota nella questione di sandro pertini credo nell'idea di un'italia sovrana come stabilita nella costituzione ma dentro un'ottica di sovranità solidale non sono parte della sinistra fluida dico solo una cosa